Start, 2, 1, boosted ignition and liftoff! Ecco che ci truffa, abbiamo le prime missioni in prigione, usciamo e qui inizia il nostro riscatto sociale, ve lo farò vedere in breve per quanto il gioco non sia una rivoluzione però è senz'altro interessante soprattutto per gli appassionati del genere perché è uno di quei generi con l'open map della città, i veicoli guidabili, la difficoltà nel guidare il veicolo, la possibilità di potenziarli, nulla a che vedere con una profondità di un My Garage ad esempio o di un My Summer Car però insomma questa è la nostra, va bene abbiamo la radio che adesso non attiverò, vi faccio vedere la N abbiamo la modalità foto dove possiamo scattare, la B abbiamo il nostro inventario dove dovremmo andare ad acquistare anche cibo perché come vedete in alto a sinistra abbiamo la vita, la salute, il sonno e la fame quindi dovremmo mangiare, col tasto I possiamo andare a potenziare e questo è il fulcro del gioco perché potenziando ad esempio a 100 la rete della vendita avremo la possibilità di trattare sul prezzo, di tirare sul prezzo, qua invece avremo modo di capire qual è, adesso potenzio già questo al massimo, di capire qual è il giusto prezzo, recuperare un pagamento, insomma ci sono tanti livelli anche il servizio Taino, il contabile, perché? perché lo vedremo a breve ci saranno anche le tasse da pagare, abbiamo la J con questi sono i giochi ma in realtà credo siano le professioni che abbiamo attive perché possiamo fare corrieri, possiamo fare Uber, insomma possiamo arrotondare in qualsiasi modo noi vogliamo cosa succede? noi abitiamo qua, in questa casetta qua, ve la faccio vedere perché all'inizio avevamo una casa di lusso prima che ci ingabbiassero questa è la nostra casa dove torneremo ogni sera per dormire e la casa tra l'altro, la prima casa, non questa, aveva i mobili modificabili quindi potremmo andare a cambiare i colori della cucina ad esempio di altri mobili, quindi è molto carino, qua invece abbiamo solo il divano, quindi non è grafica classica, stile disagio e il gioco adesso ci inizia alla meccanica della galleria d'auto, cioè questo tizio qui probabilmente adesso ci darà questo edificio e ci consentirà di iniziare la nostra attività economica praticamente abbiamo il posto, abbiamo messo via 35.000 dollari, li spendiamo e compriamo la nostra galleria d'auto ora accendiamo il computer, andiamo all'interno, apriamo la porta, vedete disagio totale il computer è la cosa più bella che c'è in questo edificio e abbiamo la possibilità di impostare dei design della galleria vedete che ce ne sono veramente tanti, abbiamo i miglioramenti appunto sull'esterno, ufficio di lusso il design della galleria interna e il design di arredamento, tipo di arredamento interno e il nome della galleria Indy Auto cambia il nome, perfetto vai al mercato usando un taxi T e compra il tuo primo veicolo ok abbiamo con la T il taxi che ci porta in tutti questi posti pensate poi ci sono le aste, i premium garage, servizi auto, negozi auto o driver quindi possibilità di iscriverci e diventare degli uber la pizzeria dove andare a mangiare, negozi vestiti, la casa nostra il parcheggio e così via andiamo al negozio di auto hanno i negozi gli orari di apertura e chiusura quindi bisogna rispettare gli orari e questo è dove vendono le auto compra un'auto che rientra nel tuo budget allora abbiamo 4.475 possiamo parlare al tizio, vediamo i chilometri le marce sono automatiche il carburante ok, difficoltà di guida ci costa 29.000 no, non ne abbiamo 29.000 e chiedo perdono vedete il livello di perizia è zero possiamo spendere quando avremo abbastanza abilità per chiedere una perizia dell'auto perché l'auto ce la possono vendere sì a un basso prezzo ma può avere delle magagne 29.000 anche questo quindi dire di no 23.000 chilometri prendiamo a occhio la più scarsa ma anche la una delle più belle la Golf terza serie 2.000 195.000 chilometri no questa, vediamo quest'altra Golf o seconda serie addirittura 300 no, 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 no ho questa qua dietro 2.000, no troppi chilometri prendiamo questa che ne aveva solo 195 solo allora acquista perfetto l'auto l'abbiamo comprata ora la possiamo guidare quindi ci saliamo personalizzatore audio e metterlo in vendita perfetto ecco la F si sale e vedete che qua c'è l'avvio del motore telecamera interna è bella la fisicità vista dall'interno poi ho visto che lo giocano tutto all'esterno però ecco tenete conto che se adesso noi la tocchiamo dentro e basta veramente un niente gli facciamo dei danni colossali che ci costano tantissimo l'impressione diciamo di guida è quella di guidare un po' sull'olio ma è il classico di questi giochi ora dobbiamo andare a farla sistemare ora andiamo a ripare service dopo un po' impareremo anche il percorso per quanto questo asfalto qui sembra un asfalto di terra rossa di Wimbledon ma va bene qua abbiamo il negozio il repair service l'auto ha il suo livello di carburante e qui in questo negozio abbiamo due possibilità la possibilità di tuning e la possibilità di ripararla quello che facciamo è andare qui spegnere il motore scendere dall'auto e andare a parlare con l'operario qua l'operario ci dirà che per la riparazione vuole 778 motore 215 le marce gli interni insomma perfetto l'auto è riparata ora risaliamo a bordo e andiamo a venderla no non voglio scendere volevo accenderla con la C è un'olfa quest'auto niente torniamo a casa non mi ricordo dov'è la casa è di là ho sbagliato sta vabbè vediamo se ci arriviamo anche da qua poi vi faccio vedere anche la mappa si è di là 200 metri quindi arriveremo là in fondo e poi giriamo stare attento a non toccarla dentro perché allora ricordiamo l'auto l'abbiamo pagata 2800 e ne abbiamo spesi 800 arrotondiamo quindi 2800 più 800 3600 3600 calcoliamo che vogliamo facci almeno 4000 fare un 400 dollari se non di più sarebbe l'ideale fare 1000 ma va bene la possiamo parcheggiare come vogliamo qua davanti la mettiamo qua nel piazzale spegniamo l'auto e andiamo cosa che tutta questa illuminazione degli edifici non mi piace moltissimo e vedete che pian piano adesso sta sta scendendo però è quella classica e ve lo dico chiaramente è un gioco stimolantissimo perché comunque è sbloccato un sacco di cose per me i giochi di questo tipo restano sempre un gran punto di domanda perché due su tre vanno avanti uno su tre tramonta inesorabilmente qua abbiamo le auto e pian piano possiamo metterle in vendita tutte qui ci dice riassume proviamo a venderla a 5000 5000 no 4000 ah no non devo metterla qua qua la descrizione ok vediamo 5000 5000 ci sta 3000 no si fanno delle prove 6000 come nuova confermiamo il prezzo perfetto si esce con così allora abbiamo l'immobiliare e ci dice le case che abbiamo che case abbiamo ah no aspetta questa è una casetta carina un milione per comprare questa casa quest'altra 5 milioni è una megavilla e questa è la catacpecchia che abbiamo noi che è il nostro possesso al momento ci sono queste vorrei è noto ormai pubblicità si possono ah bisogna completare il tutorial si possono fare pubblicità dei nostri articoli il design della galleria e niente le competizioni di auto praticamente possiamo fare gli screenshot e fare delle competizioni in quali sono le auto più belle comunque qui arriveranno vedete che c'è il prezzo sopra il tetto dell'auto l'abbiamo messa in vendita perfetto adesso è notte sono mezzanotte e mezza io credo che non non ci sarà altro da fare quindi torniamo a casa e andiamo a dormire e dormiremo sono le mezzanotte e mezza è l'una dormiamo sette ore così ci ritroviamo alla mattina e andiamo a non so cosa succede se non si mangia però sicuramente oggi faremo affari perché perché il tizio qui adesso ha bisogno di un'auto salve allora io ho chiesto 6.000 lui mi vuole dare 5.200 e io direi che affare fatto perfetto è stata di mano e l'auto se la porta via migliore che te stesso acquistando e vendendo veicoli usando attività come autolavaggio e servizio parcheggio puoi fare del lavoro extra ok perfetto Q vedete che Q trova Tom il venditore di caffè parla con lui per trovarlo per aprire la mappa ok adesso vi faccio vedere come funziona la mappa allora praticamente con la M vedete che qua abbiamo la mappa e tra l'altro tra l'altro scusate scusate lo driver lo driver premium garage abbiamo la casa d'aste qua si va nella città più grande diciamo con central park al centro quello è il la mappa di gioco possiamo acquistare cibo dal mercato la torino quando hai fame ok sì ma dov'è può vedere vado al mercato mia galleria auto lavaggio casa vecchia uh ma hanno fatto il filo no andiamo al negozio d'auto che vendiamo ancora le auto che compriamo un'altra auto e così si va avanti ovviamente nulla ci vieterà di un domani comprarci una casa o una supercar e e fare la bella vita questo qui è bellissimo questo questo qua vediamo tra l'altro noi lo ragioniamo sempre con chilometraggi bassi in realtà penso in america sia normale avere un chilometraggio del genere sì la compro non ha abbastanza puntabilità per farla fare no 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 ma lo compro lo compro lo compro perché voglio vedere prima di tutto com'è all'interno e soprattutto come la porto via da qua allora salve l'accendo eh ha qualche problemino di di visuale interna va bene allora andiamo scusi eh perdoni ok fare attenzione a non toccarla dentro il cambio in questo caso è manuale anche se c'è scritto manuale ma è manuale e non automatico ma non credo debba cambiare io adesso portiamo anche questa vedete che in alto ha ehm cioè in basso a sinistra ci viene detto che l'auto è anche sporca quindi dobbiamo pulirla non so dove non so come ahia vediamo intanto si sente anche qualche disturbo nel microfono ma io ho come l'impressione che questo microfono dopo otto anni mi stia per salutare ah lì l'autolavaggio è lì ok l'autolavaggio è lì eh devo entrare da questa allora credo vediamo uuuu girato senza guardare allora l'autolavaggio è qua vediamo se funziona ah dobbiamo prenderlo al contrario no non è questo l'autolavaggio è è il goodbye qua siamo tornati dove eravamo prima che tra l'altro uuuu ok vediamo laviamo anche questa ah ok sulla mappa ok ce lo indica allora no stia stia scusi eh allora m e no e no e non me lo indica però mannaggia fatemi mettere qua allora noi adesso ci troviamo non so dove non so ah siamo qua ok la mia galleria no low driver riparazione auto bazar no dovrebbe essere giù sotto quindi dobbiamo tornare indietro e prendere la la mega via e scendere sotto ok 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 allora andiamo a lavare anche questa per quanto volevo darvi un pochino l'idea un'infarinatura su su quello che offre il gioco per quanto ovviamente non non si presta minimamente a un video di questo genere perché uuuu mamma mia è difficile da guidare come ho detto sembra di guidare sull'olio perché comunque allora a me diverte perché mi piace star lì e organizzare i gli interventi sull'auto per quanto non ce ne siano cioè non è che potete aprire il motore e cambiare i pezzi potete fare il tuning adesso ve lo faccio vedere allora praticamente qua dentro spegniamo il motore con la F scendiamo da quest'auto anni lo so 40 e parliamo col tizio e ci costa 5,29 ora giusto per dovere di caronaca vi faccio vedere anche il tuning come va che cos'è più che altro poi andiamo a lavarla adesso mi indicherà dov'è l'autolavaggio credo spero e e poi basta andiamo a venderla sperando di venderla in tempi brevi allora spengo scendo e e vediamo spengo il motore parliamo con l'operaio beh ah non me lo fa fare eh no perché me lo è una parte di tutorial probabilmente devo acquistare cibo dal mercato quindi vediamo allora auto sporca adesso usciamo boia devo andare al mercato a prendere la roba da mangiare anche vabbè adesso la cosa più tediosa di questi giochi è il fatto che siete costretti a fare il tutorial fino a quando non vi dice che siete pronti allora adesso giriamo a sinistra e andiamo e andiamo fin là e laviamola anche quest'auto passo da sopra e poi andiamo a venderla e se trovo anche il mercato vado anche a comprare da mangiare credo sia l'autolavaggio fatemi un po' vedere dov'è se è qua sopra o driver e non lo so se sia l'auto bazzaro o cosa dovrebbe avere delle no no infatti non è quello lì si fa la benzina dovrebbe essere qua sopra credo allora quella è lo sceriffo sceriffo della contea e credo che l'autolavaggio allora sia qui no abbiamo finito la benzina abbiamo finito la benzina abbiamo finito la benzina e l'autolavaggio mi sa che era lì però vediamo vediamo se ce la facciamo raggiungere il distributore chiamo i soccorsi e per forza e niente niente non la laviamo la vendiamo così ah no mi ha fatto il pieno mi ha fatto il pieno mi ha fatto il pieno quindi andiamo se riusciamo ad accenderla mamma mia ho neanche acceso la macchina è sceso dell'1% allora abbiamo pagato 400 siamo qua in fondo a questo punto non so più neanche se lavarla dai facciamo facciamo quest'ultima cosa dai laviamo l'auto e poi la vendiamo poi vabbè essendo un gioco comunque anche in sviluppo poi verranno aggiunte nuove cose senza dubbio ho driver non è un'auto lavaggio lo driver comunque lì vendono da mangiare quindi non è minimamente un'auto lavaggio questo e io me ne frego l'auto sporca la vendiamo così come non mi interessa poi bello il colpo d'occhio perché comunque passata in mezzo i grattacieli è molto carina come cosa anche quella casa là è bella dipende perché questi giochi hanno sempre un grandissimo potenziale per quanto adesso uno dei migliori quest'anno che ho provato ah eccolo lì l'auto lavaggio uno dei più belli che ho provato è stato non mi ricordo neanche più come si chiama quello dove comunque potevamo fare qualsiasi tipo di lavoro dalle consegne ai lavori meno onesti per poter guadagnare quello mi è sembrato uno dei più carini visti fino adesso ma non mi ricordo ovviamente il nome perché ne ho portati talmente tanti quest'anno che non che non mi viene in mente comunque riaccendiamo e niente era vicino a casa davanti c'è a fianco a fianco abbiamo il lava auto perfetto la parcheggiamo lì davanti ci viene detto che c'è un garage in vendita quindi potremmo comprarlo lì io la parcheggio qui e poi la vado a mettere in vendita così vediamo auto vendibili allora vediamo abbiamo pagata 3.300 la vendo a 10.000 10.000 no va bene 9.000 8.000 7.000 6.000 6.500 6.300 6.100 5.999 confermo il prezzo usato confermo il prezzo perfetto adesso aspettiamo volevo andare a vedere se posso comprare qualcosa al mercato ma non so dove sia il mercato come ho detto e quindi è già anche notte adesso io che fastidio che mi dà sto microfono negozio di vestiti pizzeria andiamo in pizzeria così mangio un po' si è aperto perché possiamo consegnare le pizze vabbè no io vorrei mangiare lo posso aiutare apri dalle 9 alle 18 ok niente mi scusi che senso apri dalle 9 alle 18 comunque vabbè probabilmente per consegnare le cose adesso torniamo a casa 25 dollari a viaggio e andiamo a dormire andiamo a dormire perché domani chiudiamo la vendita probabilmente non lo so ipotizzo dormiamo 8 ore credo siano abbastanza vediamo che ore sono sperando ci sia già qualcuno pronto acquistare no perché è presto sono le 5 di mattina quindi oggi ce la vediamo comoda 5 di mattina andiamo a 4 ore ma non è ancora sonno mannaggia dobbiamo aspettare allora dobbiamo per forza aspettare intanto voglio andare a dare un'occhiata al garage qua davanti vedere un attimino se è in vendita cosa serve compra garage ah ok 25 mila un garage privato dove puoi tenere la tua auto perché io penso che in giochi come questo sia importante avere delle attività collaterali da fare lì abbiamo il car wash possiamo ah è lì il mini market ok ah si era qua proprio tutto qua portato di mano davanti a casa mannaggia qua porto l'auto e la rifornisco e qua vengo a comprare la roba ok e compro un po' di cose perfetto dopodiché posso andare a mangiarle mangio una mangio l'altra e quindi faccio risalire vedete adesso la fame a 100 adesso il tutorial sta andando avanti ma io ero già andato avanti un po' per i fatti miei mi dice compra e vendi due auto adesso una l'ho già qui questa signora secondo me la vuol prendere e gliela venderò anche a costo di perderci perché non la voglio più vedere questa macchina salve allora chiedo 5999 abbiamo speso poco a fare fatto perfetto e poi ti lasciano anche la recensione adesso io non so se si vede sì non è tantissima qualità ma è gestibile perché la mia prima macchina perfetto abbiamo fatto quello che dovevamo fare ora si torna là e se ne compra un'altra e così si va avanti qua si può scegliere la musica ad ascoltare premendo il tab abbiamo guadagnato credo altri punti sì quindi continuiamo no e disfare ok posso potenziare sempre quelli di vendita e basta poi il resto la J vediamo sempre le nostre attività ma o driver non abbiamo ancora nulla di attivo e e prendiamo il taxi andiamo là facciamo un'altra auto ecco vi chiedo anche se qualcuno di voi magari l'ha già spulciato l'ha già giocato anche andando avanti ne approfitto appunto per chiedergli se ne vale la pena a livelli più avanzati perché visto ora come ora non lascia un grandissimo spazio a personalizzazioni eccessive e la riparazione è molto molto base quindi riparate un'auto mettete qui la vendete sembra più un tramite per andare a comprarvi case e macchine e guidare le macchine però il mio ragionamento è la guida non è un granché la soddisfazione di avere un'auto non è granché perché non è come un My Garage dove io mi sistemo e mi rendo turbo un'auto me la provo mi sento proprio il motore diverso l'umore diverso del motore e le gomme hanno una tenuta diversa e quindi ho il bello di potenziarmi l'auto tenermela bene ripararmela qui guidate normalmente la picchiate contro muro si rompe pagate il meccanico più la picchiate più pagate e finisce lì è un po' il mio dubbio per questo titolo che ha riscosso un gran successo perché lo stanno giocando tutti lo stanno streamando tutti e io vado un po' contro sta cosa perché ne ho già visti tanti di giochi del genere quindi non non mi impressiona più quasi niente di questo tipo fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate io con questo vi ringrazio e vi saluto e vi rimando a un prossimo videogameplay alla prossima e ciao ciao